Benvenuti nel distretto turistico dei laghi, monti e valli. Romantici laghi, imponenti montagne, antiche testimonianze rurali e un'eno gastronomia d'eccellenza. L'area del distretto turistico è il luogo ideale per una vacanza di qualità. Dal lago Maggiore con le incantevoli isole del Golfo Borromeo, alle incontaminate e più tranquille acque del lago di Mergozzo, fino allo scenario quasi fatato del lago d'Orta con la suggestiva isola di San Giulio. L'offerta è davvero vasta. Per gli amanti della montagna una cornice di spettacolari vallate, mete di escursionisti e appassionati di sci. Occasioni per lo shopping nelle cittadine più alla moda o negli spacci del settore casalinghi. Infinite opportunità per praticare sport sia d'estate che d'inverno e poi spettacoli, cultura, eventi, centri benessere e terme. Oltre 600 strutture tra alberghi ed extraalberghi. Tutto questo lo trovi online su www.distrettolaghi.it Navigare sul nostro sito è molto semplice e puoi trovare tutte le informazioni utili per pianificare la tua vacanza. Sei pronto a navigare con me? Scopri dal menu principale i laghi, i parchi e le montagne. Le notizie, gli eventi, il meteo. Le immagini in diretta delle nostre webcam. Se ti registri, avrai anche a disposizione un vero ufficio turistico. I principali eventi del giorno. Gli appuntamenti dei prossimi giorni. Segnati in agenda gli appuntamenti da non perdere. Inserisci la tua e-mail. Clicca e riceverai 24 ore prima dell'evento un promemoria. Cerca nel calendario, in evidenza anche rassegne e mostre. Le ultime offerte per la tua vacanza. In tutti i tipi di struttura, nei nostri 97 comuni. Un meteo personalizzato. Se preferisci, parti dalla mappa. Qui sono riportati tutti i punti di interesse. Clicca ed entra nella scheda. E se ti registri, hai ancora di più. Inserisci il tuo nome e la tua e-mail. Scegli una password. Scrivi la tua città. Trascrivi il codice con precisione. Clicca e sei nel nostro ufficio turistico. Un menu personalizzato per te. Puoi navigare a 360 gradi. Sfogliare gli e-book del territorio. Accedere al canale video. Visitare le strutture ricettive. Navigare tra 900 ristoranti. Utilizzare più canali per contattarci. Visita i nostri laghi a 360 gradi. Ammira i panorami delle nostre montagne. Esplora a 360 gradi le meraviglie della natura. Entra nei tesori dell'arte. Ammira in anteprima l'imponenza delle vette. Per gli utenti registrati, gli e-book del territorio. Pagine da sfogliare o salvare sul tuo pc. Se ti registri, accedi al canale video. Centinaia di video del territorio. Accedi alle nostre strutture ricettive. Scopri tutte le promozioni e le offerte. Non solo alberghi, ma anche B&B e campeggi. In 97 comuni tra laghi e monti, puoi prenotare direttamente la tua struttura. Oppure contattarla, richiedendo informazioni attraverso il sito. Se ti registri, puoi scoprire 900 ristoranti. Dal menu personalizzato, puoi richiedere materiale informativo. Scopri i nostri speciali. Per ogni evento, le offerte speciali delle strutture. Scopri il territorio con gli approfondimenti delle nostre guide. Unisciti alla nostra community e partecipa al sito. Gli iscritti aumentano ogni giorno. Fai sentire anche la tua voce nel forum. Pubblica e naviga tra migliaia di fotografie. Inserisci nel tuo sito le galleri fotografiche dei nostri utenti. Il menu personalizzato è riservato a tutti gli utenti registrati. Cerca nel sito la meta di tuo interesse. Approfondisci il tuo itinerario. Leggi i consigli delle nostre guide. Ti suggeriamo anche gli alberghi più vicini. Esplora le galleri fotografiche e guarda i video. Ti diamo altre idee per continuare il tuo viaggio. Scopri un evento che ti interessa? Noi ti aiutiamo a ricordarlo. Tutto questo in 5 lingue, con notizie aggiornate quotidianamente. Contattaci attraverso il sito. Vieni su www.distrettolaghi.it Ti aspetto!